Franco Cappo! Il nostro pianista ma soprattutto travolgente visarmonicista il maestro Lodi Bertoli! Applauso doppio, lo chiedo sempre doppio perché lui è nascosto dai tuoi, dai taburi, dai piatti e quindi merito un applauso bello grande Signore la batteria Doriano! E poi le tastiere del baffo che conquista quindi il signore porta con le mani per Maurizio! E poi abbiamo il nostro bassista ma soprattutto a voce maschile dell'orchestra signori Gimorto! Grazie e benvenuti, benvenuti a questa bellissima festa a San Bartolomero bravi, siete proprio bravi Naturalmente noi siamo qui per aliettare la vostra celata però vedendo prima quanto l'avete aspettata quanto l'avete abbracciata e quanto gli avete gli siete stati vicino posso dirmi a nome mio, dei miei ragazzi, dei miei colleghi? Grazie! Molto bene a tutti! Stefania! Tante salute, siete la mia gioia, grazie Grazie, il mio nome! Grazie! 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 Non mi lasciare, sono insieme a te, voglio guardare il mambo Non mi lasciare, sono insieme a te, voglio guardare qui Sì Grazie